buongiorno ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 4 ottobre 2023 il 4 ottobre è una data importante in quanto come vediamo dall'almanacco del giorno si festeggia un grande santo san francesco d'assisi eccolo qua mingerlino piccolo di statura ma grande grande grandissimo d'animo e di adesione a quello che è lo spirito evangelico che dire di lui e beh ci vorrebbero veramente tante ore per parlare della sua storia della sua conversione e della sua santità fu un giovane che imitò alla lettera il vangelo sposando madonna povertà così la chiamava come in una rapida sequenza cinematografica scorrono gli episodi così della sua vita guerriero contro perugia la prigionia il colloquio con il crocifisso di san damiano la spogliazione delle proprie vesti di fronte al padre nel duomo di assisi la porziuncola la regola il viaggio verso il sultano d'egitto l'estimate alla verna una vita di preghiere di sacrifici che con la pace nel cuore ha assunto una dimensione che tra tutti i santi è stata una delle maggiore fu chiamato il santo degli italiani il più santo degli italiani e il più italiano dei santi quindi veramente ha tutto il diritto di essere stato proclamato il patrono d'italia questo è san francesco le previsioni del tempo cielo terzo stamattina sulle marche cieli in prevalenza poco nuvolosi saranno così per l'intera giornata salvo la presenza di qualche addensamento serale i venti saranno moderati il mare poco mosso la temperatura dai 15 ai 24 gradi quindi abbiamo ancora la alta pressione di carattere estivo che perdura sull'italia perdura almeno nelle zone del centro nord del centro del centro mentre nel nord abbiamo qualche variazione verso il cattivo tempo e abbiamo oggi il resto del carlino a prima pagina quella di fano e vediamo la notizia che campeggia un po su tutti i giornali questa mattina una notizia di cronaca è stato ritrovato un cadavere sulle rive del metauro mummificato quindi probabilmente è lì da diversi giorni va a cercare funghi un cercatore e cosa trova sulle rive del metauro trova un cadavere nudo e mummificato era senza vestiti era in posizione supina forse di origine africana apparentemente giovane trasferito all'obitorio di fano per essere sottoposto ad autopsia ed ora gli inquirenti cercano di capire chi era questa persona che è deceduta perché è deceduta non ci sono tracce di una morte violenta e quindi occorre indagare per sapere certo che questa situazione ha creato una certa emozione sia in chi li ha trovato sia in coloro che poi devono proseguire le indagini il magistrato dopo aver effettuato i rilievi da parte della polizia scientifica ha disposto il trasferimento del corpo nell'obitorio dove verrà effettuata come abbiamo detto l'autopsia si cercherà di risalire all'identità della salma attraverso almeno le impronte digitali se questo sarà possibile ci sarà anche contemporaneamente un'attività di ricerca sul territorio di una persona di colore che qualcuno può avere conosciuto e che improvvisamente è scomparsa improvvisamente non si è più vista ecco perché appunto si cerca di capire qual è la identità di questa persona vediamo le altre notizie le altre notizie parlano di tante di tante manifestazioni che si svolgono in questa giornata oppure che si presentano per una programmazione annuale l'università dei saperi festeggia due volte si celebrano i 20 anni di attività di questa associazione e i 150 anni dalla nascita di giulio grimaldi l'università dei saperi è intitolata il grande romanziere fanese autore della maria risorta con tanti corsi e iniziative ebbene è stato ieri presentato il ricco calendario di attività è stato presentato alla stampa nella sala della concordia un'attività che si che proseguirà per il 2023 2024 ma che verrà resa pubblica domenica alle ore 17 al gonfalone l'associazione come abbiamo detto celebra con un calendario più ricco del solito i 20 anni dalla sua istituzione e appunto anche questo significativo anniversario di giulio grimaldi che dovrebbe non solo essere festeggiato dall'associazione ma da tutta la città il tema scelto per questo ventennale è le ragioni della bellezza la bellezza della ragione al quale sarà dedicato un intero ciclo di conferenze nella offerta didattica e delle attività di quest'anno in più ci saranno delle iniziative rivolte soltanto ai soci sono 70 corsi più 16 eventi aperti a tutti e 5 trasferte tra gite e viaggi aperte anche ai simpatizzanti quindi un calendario veramente ricco e poi ieri è stato presentato anche il fuori brodetto questa iniziativa collegata al brodetto feste che si è svolta nel mese di giugno ora invece nel mese di ottobre da domani no anzi dal 6 dal 6 ottobre da venerdì quindi fino al 19 novembre abbiamo 32 ristoranti dislocati un po in tutta la provincia la maggior parte sono di fanno poi ne abbiamo sei di pesaro uno di marotta e uno di colli al metauro ebbene questi ristoranti offriranno dei loro menu il brodetto fanese a un prezzo che è calmierato quindi una bella occasione per gustare questo piatto tipico della tradizione marinara che è stato anche un elemento importante nella promozione della città di fanno in quanto la enogastronomia ricordate anche la fanno gastronomica ha assurdo ai livelli veramente di promozione tanto quanto l'attività balneare e quanto fanno città d'arte e cultura a fanno si viene perché si mangia bene e ci sono piatti tipici veramente da soletticare molti turisti sia italiani che stranieri un'altra iniziativa the williams tour ha fatto rotta verso l'ipari ebbene questa è una iniziativa dell'associazione che combatte la sindrome di williams la quale ha individuato la barca a vela con tutte le operazioni che necessitano per navigare come un momento importante per la riabilitazione di coloro e soprattutto giovani che hanno questa malattia una malattia di carattere ereditario no di carattere ereditario di carattere è bene che si sa da quanto che si contrae nel momento della nascita già quindi una malattia molto molto brutta che al momento non ha cure che possono essere risolutive ebbene una un escursus sul mare verso l'ipari è veramente un addestramento importante per questi ragazzi una prova di carattere è una prova di riabilitazione e poi vediamo che questa settimana si celebra noi ma la testa a fanno non solo romanità fanno celebra le sue radici medievali ebbene abbiamo quattro giorni proprio da questa sera si rievoca l'atmosfera medievale dopo che in passato nei mesi scorsi sono tenute giochi giostre spettacoli di carattere ludico ora invece c'è tutto un risvolto culturale ci sono presentazioni di libri che rievocano il periodo malattestiano ma abbiamo anche un bello spettacolo perché questa sera ci sarà una fiaccolata che procederà verso la chiesa di san francesco dove è la tomba di pandolfo terzo ebbene oggi appunto è uno dei significativi anniversari che riguardano questo personaggio importante dell'affano medievale e poi ci sarà un documentario che rievocherà tutta la scoperta delle mummie malattestiane ma soprattutto quella di pandolfo terzo le mummie insegnano studio paleopatologico di pandolfo terzo malattesta relativo alla resumazione del corpo del grande sepolto appunto nella chiesa di san francesco è ancora lì presente che riposa nel suo sarcofago giriamo ora la pagina e siamo a pergola a pergola abbiamo una rivolta di medici perché perché meno stipendio e più lavoro e questo è un po il problema della sanità che ogni tanto appare in superficie meno soldi per lavorare di più in caso di emergenze dovranno aiutare nei reparti e nel punto di primo intervento ma lo stipendio sarà sempre quello con lo stesso stipendio dunque i medici del 118 della potes di pergola quando non erano impegnati nelle uscite con l'ambulanza prestavano servizio nel punto di primo intervento e per questo ricevevano allora un compenso aggiuntivo di 500 euro ma ora non è più possibile perché una disposizione dell'azienda sanitaria territoriale stabilisce che in questi punti devono lavorare altri dottori meno soldi e meno lavoro dunque no no non esattamente i medici del 118 invece devono restare a disposizione per intervenire nei reparti ospedalieri quando si verificano situazioni di emergenza e quindi ovviamente lavoro in più ma lo stipendio è sempre quello ecco perché c'è questa protesta che emerge oggi da pergola e viene pubblicata sul resto del Carlino però abbiamo una buona notizia in compenso cioè non da pergola ma questa volta a mondolfo mondavio e anche a pergola anche a pergola perché siamo nella val cesano guardia medica problema risolto a ottobre una copertura completa buone notizie dunque sul fronte delle guardie mediche per quanto riguarda le postazioni che abbiamo detto val cesano mondolfo mondavio e pergola nel comune rivierasco per il secondo mese consecutivo la copertura del servizio è pressoché completa mancano solo tre turni su 41 ne saranno scoperti soltanto tre quello diurno di sabato 28 ottobre e quelli notturni del 30 e del 31 dello stesso mese a urbino scende in campo l'ex senatore l'ondei capogruppo di urbino e montefeltro ebbene l'attenzione è rivolta alle elezioni amministrative del 2024 ebbene l'ondei ha stilato un decalogo di 10 punti che riguardano diversi aspetti diversi problemi della città ducale ateneo, viabilità, pnrr, strutture, servizi sociali poi abbiamo ancora dunque vediamo ancora intelligenza artificiale infrastrutture, lavoro, attività produttive insomma sono diversi aspetti che riguardano il programma elettorale di urbino e montefeltro che al momento non si schiera ebbene è una decisione che ancora deve essere presa intanto però si pensa ai programmi alle cose da fare che è la cosa magari più importante la galleria della guinza lavori sempre più vicini si avvicina al momento in cui riprende l'attività in questo nodo essenziale della viabilità provinciale è stata nominata la commissione per la gara d'appalto a dicembre si saprà quale sarà la ditta di costruzione che avrà il compito di adeguare il traforo ci sono in ballo c'è in ballo un investimento di 90 milioni di euro e Sant'Angelo Invado ha festeggiato invece l'ex parroco è stata data in una cerimonia che si è svolta in cattedrale la cittadinanza onoraria a Davide Tonti Davide Tonti ha guidato la comunità per oltre mezzo secolo ebbene il sindaco Parri gli ha consegnato una pergamena con tanta tanta soddisfazione da parte di tutti i cittadini che hanno avuto modo di apprezzare l'impegno evangelico l'impegno missionario di questo sacerdote al termine delle solenne pontificale celebrato dal vescovo Sandro Salvucci il sindaco appunto Stefano Parri ha consegnato questo significativo riconoscimento al sacerdote e sfogliamo il resto del carlino anche per quanto riguarda la pagina di Pesaro e vediamo che l'apertura è dedicata ad una malattia molto grave ovvero la demenza, la salute mentale la salute mentale ha un momento di emergenza al centro per i disturbi alimentari c'è uno psichiatra in arrivo sarà assegnato alla struttura di Galantara ed è l'unico professionista che ha partecipato al concorso indetto dall'azienda sanitaria la direttrice generale Storti da metà ottobre si potrà riprendere con la programmazione ebbene un medico è grasso che cola perché anche se è uno solo in questo momento di depauperamento della sanità avere un medico nuovo, un medico in più è molto molto importante e poi vediamo un'altra malattia quella dell'anoressia una malattia che sì ha degli agganci fisici ma è originata anche da problemi psicologici da problemi mentali la racconta Elisa Mencarini che è stata vittima di questa malattia racconta il suo doloroso percorso verso la guarigione pensavo di controllare tutto ha detto anche la morte ma era il cibo che dominava me e quindi non riuscivo a uscire da questa rete che mi avviluppava e contraeva tutte le mie decisioni un articolo importante un articolo interessante che dovrebbe essere letto in particolare dai nostri giovani perché spesso sono i giovani a cadere in questa rete che è veramente dequalificante ed ora veniamo alla cronaca ha cercato di gelosia arrestato un quarantenne in fuga della gelosia aveva fatto il suo affetto dominante era molto violento nei confronti della compagna una relazione che era venuta tramite il web si erano conosciuti entrambi tramite il web questa coppia lei si era innamorata di lui ma la sua gelosia era diventata ossessiva veramente la costringeva in maniera assoluta era diventata una cosa nelle sue mani a un certo punto questa donna ha reagito e ha denunciato l'uomo la donna che ha 42 anni ha preso il coraggio e lo ha denunciato per maltrattamenti da lì a qualche giorno l'uomo è stato arrestato perché altamente pericoloso del resto aveva anche dei precedenti per quanto riguarda rapine e lesioni e quindi non era certo un soggetto raccomandabile vitri cassa integrazione a zero ore parte la richiesta a IMSS sindacati riguarda oltre mille lavoratori abbiamo una azienda in difficoltà la sede del Riva Cold questa è la foto che la ritrae in terroria questa situazione durerà fino alla fine di dicembre ieri ci sono stati degli incontri di carattere sindacale tra Cigelle, Cisle e Wille con la proprietà e poi il confronto con il personale all'ABS sono in corso trattative invece per la solidarietà tra gli amministrativi i quali corrono il rischio veramente di essere penalizzati ed ora parliamo di alluvione parliamo di alluvione perché il nostro territorio è stato visitato dal generale Francesco Figliuolo che è il commissario speciale per quanto riguarda la gestione dei fondi che il governo ha messo a disposizione per riparare i danni dell'alluvione e ci sono decisioni importanti per quanto riguarda il nostro territorio ebbene ci sono nuovi comuni nelle Marche che potranno beneficiare di queste risorse prima erano sette ed ora arriveranno al numero di 24 i nuovi comuni prese in considerazione si dislocano in tutta la regione 5 nel Fermano 3 nel Lanconetano 4 nel Maceratese e 5 nel Pesarese i 5 nuovi della nostra provincia sono Frontone Urbania Lunano Pian di Meleto e Macerata Feltria i quali si aggiungono a Pesaro Fano Urbino Gabice Monte Labate Monte Grimano Terme e Sasso Corvaro che erano già i comuni i sette comuni che erano già inclusi nel programma degli aiuti statali e quindi abbiamo delle notizie buone speriamo poi che questi soldi arrivino presto e possono essere investiti nel territorio e poi abbiamo la risposta di Roberto Burioni che stava per ricevere il premio Frontino quando è stato contestato dal priore del convento che ospitava la cerimonia la disfida del convento Burioni dice ci mancava solo di imbattermi nel priore Novax ebbene leggere questo articolo insomma non si può che provare non dico simpatia ma una certa adesione alle tesi che Burioni il noto virologo esprime così a supporto di quello che c'è stato in questa cerimonia e poi parliamo di Don Gaudiano 30 anni dopo una figura di riferimento emblematica non solo per Pesaro ma per tutta la provincia arriva il Cardenale Zuppi per onorarlo per festeggiarlo il Presidente Nazionale della CEI gli renderà omaggio domenica a teatro e sarà il clou questa cerimonia di tutta una serie di iniziative che poi andranno avanti fino a dicembre Don Gaudiano ha fatto un'opera che è rimasta nel cuore ma anche nel tessuto sociale di tutta la città di Pesaro ed ora passiamo al Corriere Adriatico ecco l'apertura dedicata al ritrovamento del cadavere mummificato sulle sponde del Metauro una scoperta shock dice il Corriere Adriatico lungo il Metauro mistero sulla morte di un giovane straniero nessun segno di aggressione difficile datare il decesso il cadavere di un giovane uomo l'abbiamo detto è stato trovato nella tarda mattinata di ieri a qualche decina di metri dalla riva del fiume Metauro era lì da diversi giorni lo stato di decomposizione lo dimostra e probabilmente anche è stato rovistato da qualche animale insomma da qualche predatore che gira nei paraggi vediamo anche gli articoli delle manifestazioni fuori brodetto la zuppa che prolunga la stagione veramente sia la bassa stagione di giugno dove si è svolto quando si è svolto il brodetto fest e ora ottobre quando siamo al di fuori della grande stagione turistica questa iniziativa prolunga la forza di attrazione del nostro territorio e poi tra cultura e spettacolo ecco in malatesta con la pandoffaccia quattro giorni dedicati ai libri fiaccolata e arte vi ricordo che questa sera alle ore 21 ci sarà questa bella fiaccolata che arriverà nella chiesa di San Francesco dove poi ci sarà sarà proiettato il documentario sulla riesumazione dei resti di Pandolfo nei prossimi giorni giovedì no venerdì sab non giovedì venerdì sabato e domenica ci sarà delle presentazioni di libri che sono libri significativi per la signoria dei malatesta terre roveresche la piscina non è in regola non doveva essere aperta è una tesi queste delle opposizioni che hanno elevato una serie di eccezioni per quanto riguarda la regolarità di questo provvedimento ebbene le annotazioni degli ispettori risultano essere importanti l'apertura al pubblico della piscina non risulta essere stata autorizzata nonostante l'apertura del cantiere edile nel 2021 che ha comportato delle modifiche significative queste alla struttura e poi non sono stati registrati i parametri previsti tra cui anche il pH che è importante per rilevare insomma anche lo stato fisico-chimico dell'acqua e poi ancora altri dati che non sono stati in regola con le prescrizioni per autorizzare questo avvenimento abbiamo anche una presa di posizione del sociologo Maurizio Tomasini per quanto riguarda la nuova ASP il pressing delle acli per prassi e criteri soprattutto si vuole maggiore condivisione per quanto riguarda le decisioni assunte per questa nuova importante istituzione che viene e che è stata approvata prima di chiudere voglio ricordarvi questo servizio del 118 di Pergola di cui abbiamo parlato anche nel Carlino violate le norme contrattuali il sindacato dei medici si pone in agitazione per l'interruzione del precedente accordo e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto